Bene, adesso colleghi vediamo come si costruisce un nuovo utente con Sodi Linux il quale poi dopo sarà configurato secondo le nostre esigenze vado in sistema del menu principale, amministrazione, utenti e gruppi clicco e esce fuori la finestra di gestione quindi oltre a CTS, Emma, Filippo e Teste voglio fare un nuovo utente che lo chiamerò Viterbo perché qui siamo CTS Viterbo la password di questo computer come tutti i computer di prova di Sodi Linux è scuola il nuovo utente è Viterbo e password la chiamerò scuola perché per non sbagliare io uso sempre scuola adesso io ho fatto scuola io ho fatto scuola come password e do ok questo utente, Viterbo, però voglio dare alcuni diritti e alcuni non diritti quindi vado in impostazioni avanzate e dirò che questo utente può andare ai dispositivi di memoria si, quindi può legere le chiavette si può mettere a internet? si può configurare i stampanti? no, perché lo decido io può inviare un fax? no può andare nel registro di sistema? no può montare i file system? no, meglio di no usare gli scanner? si audio? si video? si usare i modem? si usare l'unità a nastro? si ok, bene, adesso il mio utente è fatto con i diritti che voglio io quando io chiudo e vado ad esempio in termina sessione e cambio utente troverò che ho un utente nuovo che si chiama Viterbo eccolo qui e per entrare devo fare il login con la mia password torno indietro ok e adesso chiudo la registrazione perché ha spiegato con questo piccolo video come si crea un utente solo di linux per le guide di solo di linux francesco fusillo questa è un'applicazione che su un nuovo prodotto il programma della smart è complicatissimo grazie